La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. In Ucraina c'è un paese aggredito da tutelare, un paese aggressore da punire, un paese aggredito e un paese aggressore. Quante volte avete sentito questa frase nell'ultimo anno? Quante volte anche i miei colleghi, anche quelli più in buona fede, anche quelli che provavano a far luce sulle responsabilità degli Stati Uniti, della Nato, dei governi in Ucraina nel conflitto in corso, e anche loro hanno dovuto, anche loro ma anche io ho dovuto farlo, iniziare per forza ogni discorso con la premessa in Ucraina esiste un paese aggredito ed un paese aggressore. Basta, è una balla, è una bugia che noi ora andremo a smentire una volta per sempre, perché noi questa premessa non dobbiamo farla più, mi rivolgo ai miei colleghi, è controproducente per far emergere la verità, perché non è vero che in Ucraina esiste un paese aggredito ed un paese aggressore. In Ucraina esistono degli aggressori che si stanno scontrando tra di loro. In Ucraina c'è stata un'aggressione in piazza a Kiev, in piazza Medana nel 2014, un'aggressione al governo democraticamente eletto. Ci sono stati quasi 100 morti in quella occasione e non è stato Putin, non era Putin l'aggressore. Tant'è vero che esiste una intercettazione telefonica tra il primo ministro Estone e l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Ashton, dove il ministro Estone è appena tornato da Kiev, dice all'alto rappresentante dell'Unione Europea, cara mia ho le prove, che chi spara sulla gente in piazza sono dei cecchini e non sono dei cecchini al servizio di Yanukovic, il presidente che è stato deposto, ma anzi, al contrario, sono cecchini al soldo della nuova coalizione filo-europeista e filo-occidentale. Non lo ha detto Putin, non lo hanno detto le agenzie di stampa russe, lo ha detto il ministro Estone, filo-europeista, filo-NATO, filo-occidentale, all'alto rappresentante dell'Unione Europea e quei cecchini sono stati intervistati nel 2017 dal giornalista Gian Michalessin, il servizio è andato in onda addirittura in Italia su Matrix e quei cecchini dicono siamo giorgiani, siamo uomini, eravamo uomini al servizio del presidente giorgiano Schakasvili, detto l'americano, personaggio che da presidente della Giorgia è diventato governatore di Odessa in Ucraina, questi sono stati i responsabili dell'aggressione al governo di Kiev nel 2014. Poi c'è stata un'aggressione alla casa dei sindacati di Odessa in Ucraina dove sono stati bruciati vivi 40 persone che erano personaggi manifestanti che si opponevano al nuovo governo filo-occidentale per la presenza di ultranazionalisti al governo, quindi questi protestavano contro il nuovo governo filo-occidentale sono stati aggrediti e sono stati bruciati vivi, seconda aggressione dove Putin non c'entra niente. Poi ci sono state le aggressioni ai filorussi del Donbass, aggressioni che hanno scatenato una vera e propria guerra nata nel 2014, come ha appena confessato il capo della NATO Stoltenberg, la guerra è iniziata nel 2014 quando sono stati gli ucraini ad attaccare i filorussi delle repubbliche separatiste ci sono stati in quell'occasione circa 14.000 morti dall'una e dall'altra parte ma in maggioranza erano i filorussi aggrediti nelle repubbliche separatiste del Donbass ricorderete Poroshenko, il presidente dell'Ucraina, che diceva i nostri bambini andranno nelle scuole, i loro invece dovranno vivere nelle cantine quindi c'è stata un'altra aggressione non dovuta a Putin e poi c'è stata la reazione di Putin e la sua aggressione come risposta alle due precedenti aggressioni quindi Putin non ha risposto difendendosi, ha risposto aggredendo ha aggredito chi lo aveva aggredito in precedenza tant'è vero che la sua operazione è iniziata proprio nel Donbass per proteggere le popolazioni aggredite dove lo vedete un aggressore e un aggredito? io vedo quattro aggressioni di cui tre non ad opera di Putin quindi basta dire che in Ucraina esiste un aggredito da difendere e un aggressore da fermare in Ucraina ci sono state tre aggressioni che nessuno ha voluto fermare ci sono state popolazioni aggredite che nessuno ha voluto difendere e Putin ha fatto probabilmente quello che può essere considerato un errore poi la storia ci dirà, noi prendiamo sempre le distanze dalle aggressioni e dalle guerre ma le prendiamo sempre to cure, cioè per tutti io prendo le distanze dalla NATO e dagli Stati Uniti che hanno fomentato quegli scontri a Kiev nel 2014 come emerso dalle intercettazioni telefoniche di Vittoria Nullan del Dipartimento di Stato quindi non mi sto inventando niente che ha voluto mettere bocca sul nuovo governo imporre il proprio uomo ed era in piazza a Kiev nel 2014 c'è stata l'ingerenza dei neonazisti ad Odessa e anche questo è certificato hanno fomentato un cambio di governo hanno attaccato una intera popolazione per otto anni non mi venite più a dire che c'è un aggredito ed un aggressore e soprattutto prendiamo sempre le distanze da chi aggredisce dall'uno e dall'altra parte prendiamo le distanze dalla guerra e impariamo a dire che la guerra deve finire non è l'Ucraina che deve vincere, non è la Russia che deve perdere è la guerra che deve finire, che sia chiaro quindi lancio un appello finale ai miei colleghi smettetela di iniziare i discorsi premettendo che in Ucraina c'è un aggredito ed un aggressore è una balla, una balla controproducente per chi vuole fare emergere la verità e per chi vuole tutelare i diritti di tutti i paesi e i popoli aggrediti un saluto a tutti da Francesco Amodeo La Matrix europea la verità dietro i giochi di potere con Francesco Amodeo